Eccovi, mi dovete aiutare, come? Shhh, zitti, perché sono dentro l'armadio. Ma scusa, come, non l'avete capito? Che questo qui mi vuole fare rinchiudere al manicomio. È arrivato, sto ciampa, e il berretto assonagli di qua, il berretto assonagli di là, e la corda civile, la corda seria. E hanno deciso che devono far passare tutti quanti che io sono pazza. Ma noi non lo permetteremo, vero? Voi mi aiuterete, giusto? Verrete al Franco Parenti dal 21 al 26 febbraio ad aiutarmi, mi raccomando. Beatrice Fiorica, che poi sarei io, Roberta Caronia, vi aspetta. E poi dovete assolutamente venire, perché mica posso rimanere dentro l'armadio per sempre, giusto?